Mi chiamo Sara Diana, arrivo da Trezzano sul Naviglio, provincia di Milano. Ho 23 anni e nella vita faccio la gelataglia. Solare, dinamica e un po' pazza. La mia parola d'ordine è semplicità. Con i social sono attiva su praticamente tutto, Instagram, Twitter, Facebook, però in particolare la mia preferenza va verso Facebook. È più dinamico rispetto a un Twitter, mi piace di più, non lo so, lo uso per chattare specialmente con i miei amici, ma comunque mi piace anche conoscere persone nuove, infatti ultimamente ho aggiunto dei ragazzi, uno di Londra e uno americano. Allora, un follower è la persona che tu segui, cioè indipendentemente se ti può piacere o non ti può piacere, però tu magari lo segui lo stesso. Un fan è una persona che è proprio accanita su chi gli piace. L'anno scorso sono stata contattata da uno pseudofotografo che voleva bindolarmi in qualsiasi modo ed è andato avanti sei mesi a stressarmi l'anima mandandomi messaggi allorché l'ho dovuto bloccare perché non ne potevo più. Instagram non lo uso tantissimo, mi metto così qualche foto ogni tanto, ma non è che ci navigo molto. Allora, il mio selfie migliore è quando, non lo so, mi viene spontaneo o voglio di farmi un selfie, me lo faccio, basta, non ci sto a pensare troppo. Non sono una che si fa duemila foto, ma quelle che faccio diciamo che mi vengono abbastanza bene. O me le faccio in macchina o quando sono a casa, al lavoro no, perché sennò il mio capo mi uccide. The Queen of Selfie. E' meglio che non mi guardate la mattina. Allora, ho 13 tatuaggi e anche un po' di piercing e due dermal. Ho iniziato a farli quando avevo 14 anni. Poi sul braccio ho le zampe che sarebbero a significare i miei quattro cagnolini. Ho iniziato a farli quando avevo 14 anni. Ho iniziato a farli quando avevo 15 anni. My pocket in my pocket. I'm, I'm hopin', could someone come up. This is fucking awesome. Grazie a tutti.